Ben tornati sulla storia dei pinoli. Oggi c'è un pinolo solo, ma va bene. Cominciamo il gameplay di Scratch Bandicoat, che entra in una sezione nuova, ovviamente, in una sezione retro. Cominciamo. Insenti Beach, che per fortuna è scritto come Beach. Che cazzo guarda? Dove guarda? A quanto pare le elefette del joystick ci hanno abbandonato del tutto, quindi iniziamo questa avventura retro con lo castellico, con le faccette, con il D-pad, intanto odiato D-pad, che però è stato protagonista dalla nostra infante. Dobbiamo rispettarlo. Ma non è che era probabilissima cosa che aveva fatto. Comunque, andiamo a, per mostrare il primo livello, come usissimo, mi sembra un pinolo. Buono sciato! Ho scampato 13 mele, che sono abbastanza menoso con le mele, come sono due parole per chi iniziamo. Eccolo! Eccolo! Cominciamo alla grande. Ok, ci riproviamo. Sono molto arruginito. Eccolo! 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 Ok, andiamo avanti con Jungle Rollers! Jungle Rollers! Cioè, che sarebbero giungle e rotanti, oppure dietro rotanti nella giungla, non voglio sapere. Facciamo questo gioco di via. E allora non ce n'è per nessuno, signor. Ok. Abbiamo il secondo gioco, il secondo bonus. Facciamo la seconda cosa, la seconda faccia di Don che ti porta il bonus. Ok. Ok. Viaggio bonus. Unico gioco dove il bonus è sempre stato più difficile dei livelli. Ok. Poi nei crelli dopo l'hanno capito che la gente si svenava per fare questi e quindi ha eliminato le difficoltà del gioco. Ok. Quando la vita ti offre delle mele ti fai una minata. Ok. Ok. E siamo andati bene anche in questo livello ma non abbiamo preso le casse. Ok. Deve esserci qualche sotterfugio bastardo. Unico gioco cos'è qui. E siamo andati bene. Unico gioco. Unico gioco, troppo troppo. Unico gioco. Unico gioco. Unico gioco. E riproviamoci! Oh! Un'altra testa! Oh! C'è un po' l'occoce! No, 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 no! Merda! Ehi! 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 No! Oh! Bene! Guarda si farete! Vita! Ok! Andiamo avanti! Con queste cose che girano! Non è capito cosa fosse che girano! Una scimmia! No, 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 no! Oh, no, 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 no! Le donne, no! Ehi! 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 Subisci! Zoffa! Merda! Stronza! Entendiamo! Tutto liscio! Tutto liscio! Tutto liscio! Tutto liscio! Non è merda! Devi subire! Zitta! Giù! In cucina! Ok! Ok! Ehi! Tornato proprio! Ok! Ma i denti! Ok! Andiamo nel secondo bonus round! Ok! 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 D'ora! E ancora... E ancora non ci possiamo fare! Alto là! Sudore 2! E anche questo è finito Mi sembra di intuire che c'era un altro L'avevo capito, calma però Da che le manco apposta le casse Oh Brutti ricordi Bruttissimi ricordi Ancora più brutti ricordi Soprattutto con le freccette Eccola Ok, la prima L'abbiamo controllata la grande Via P Sì, sembra molto facile con il joystick Dovete giocarci col cellulare Con l'emulatore per telefonino E' una cosa di impossibile Quindi è molto difficile Abbiamo una seconda gemma E stavolta tutta in una volta Senza trucchi Neanche prima Ovviamente Upstream Cosa vuol dire? Sopra più Una maschera all'inizio Non so se sia un buon segno O un cattivo segno Non ricordo bene Però In realtà io mi ricordo Sto facendo finta di giocare A questa cosa Perché una volta Macri Voglio averla finita Sessanta volte Però Continua Non è Sto L'ho fatto apposta Giuro L'ho fatto apposta Che bello Guardare il fiume Quanto sono rimasto Sopra Non andrà via Bene Ragazzi Che stile E andiamo col terzo Terzo bonus Nel quarto livello Nel quinto livello E' quello che è libero Questo è ancora uno di quelli Più facili Ovviamente Nel loro Ma questo Soprattutto Soprattutto E' bello Tower Si chiama La donna Seguiamo col nostro video Ludo E abbiamo finito anche il quinto Sì lo so che non ho preso le scatole Non mi rompete Le palle Oh finalmente Il cliente più adorato Da tutti i dietologi Della Della Papua Nuova Nuova Dunia O quello che è Dell'Uganda Quegli stati Improvinciabili Che si uccide in modo molto difficile Mi ricordo E' un osso Che dica le azze E' E' un osso La bocca nera Oh Rolling Stones I can get Satisf Ah non quelli No Sul concierto E' un osso E' un osso Un osso Un osso Va bene Stavo lì Ah questo Questo Qua siamo qua Il leggendario Bonus Brio Che io A 8 anni Chiamavo Bonus Della testa di forza E' effettivamente Già sono lì 8 anni Vole da occhio Oh 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 Non ci credo Non ci credo Ho fatto un salto in più Per l'esplosione Ma sono rimasto lì A destino ragazzi Questo non Come farlo ma Va bene uguale Mi sono bucciato Di prosi Via 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 Viscio Questo è il primo livello Leggermente ostico Io sono le cose secondo Ostiche Che ostici Cominciano Gli astici Cominciano E forse Andiamo E andiamo Col sesto Bonus O quinto Bonus O che cazzo Di bonus Era un personale E' questo Marcio Ma no Non importa Non importa A quanto pare Si può andare anche su e giù Questo non lo ricordavo Bene Questo Quella farina o bruci Informa che abbiamo perso altre casse A buona parte del gioco Dovremmo Così Questi sono i bonus Più bastardi Che io abbia mai conosciuto In tutta la mia Esperienza Dall'intera vita Infatti Bene Questo Lo tagliamo Possibilmente Eccoci arrivati a Hog Wild E' tipo Cingale E' Tutto diverso Guardi 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 Sì Grande Sì, perfect, giamma la prima Abbiamo qua per forza Ovviamente non l'ho mai rigiocato Ve lo giuro Ho fatto un tentativo solo Ve lo giuro Su qualsiasi cosa Oh, cazzo Ecco, questo è stato forse uno dei Delle più grandi crisi Di rabbia della mia infanzia Quando giocavo questo gioco con mio padre Non solo mio padre Credo che abbia imparato a bestemmiare In questo modo Ok Per ora tutto l'iscio E' troppo spaventato Ma forse toglie di venti che attiva la sua presa Cominciamo a tiritela Ma è baffa ancora l'ora BORKA POO Che tristeza Ma che cazzo si... Viva la Opa, tra l'altro No, no, no No, poi, via via Una donna o una donna? Quanto femminismo è quell'immagine Sì, la semplicissima Quanto... Ma che cazzo? Oh, guarda Non, perché? Non, 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 non Tant'erout Ma che cazzo si è una donna? Ma che cazzo? Ma che cazzo si viene da un giro? Ma che cazzo si viene da un giro? No! Mio, che doloroso! Obelink, ma... via! Via tutti gli staccoli si ribellano... Via... e vai! Questa volta l'abbiamo regalata. Oh, vediamo sto bonus, non me lo ricordo per niente, non inizia benissimo, ma non potrebbe essere effettibile. Ok. Ok, da qua comincia la cosa a salire. Sto salendo di piano. Ciò sembra il tappeto che ho in sala, ma... No, 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 no. Vediamo un po', via, 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 via. Noce, 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 no. Una laberintina. Spero che a questo punto sempre sarete aiutati a decidere il nome ufficiale della polpogrocola. Testa, testa. Ah! E adesso andiamo a trollare completamente tutti gli altri. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Bene. Vediamo la... Una pianta che ci guarda. Pazzasta. Ora non ho mai capito cosa c'è, ma... Non riesce di trovare. Doppio cuore. Doppio cuore. Doppio cuore. Sto scherzando. Doppio cuore. Fregato. Calma. Era attivo. Sì, fregato. Doppio cuore. Mi sto bruciando il culo. Ha mangiato tutti gli altri. Questo dovrebbe essere il pezzo più facile, invece è una rognata pazzesca. Una rognata pazzesca. Pazzesca. Poi sembra che tutti noi ci hanno pensato una parola pazzesca. In realtà non si sente mai qua in questa città. Ok. C'entriamo? Ecco perché... Andiamo a finire il solito. Dica. Ok, la prima isola è conclusa. Ma... Pensavo di metterci molto meno, invece ci ho messo tanto. Però... Va bene così. Ecco cosa succede quando mangi piccante.